Un bellissimo premio, più che alla carriera è un premio alla corriera, ho un mese che sto prendendo aerei, non ne posso più, però sono felice di essere venuto qua perché è la prima volta che vedo Toronto, che incontro un bel pubblico come voi e poi è la prima volta che faccio vedere questo film fuori dall'Italia perché ha terminato l'altra settimana la sua programmazione che è stata abbastanza lunga e quindi è la prima città straniera che lo vede, sono contento di presentarlo a voi, quindi ve lo dedico con tutto il cuore. Grazie per questo bellissimo riconoscimento che apprezzo molto, perché davo da voi.